Ho trovato vecchi vecchi cinghialoni della mia età, andavano a correre senza mascherine. Fa sorridere pensare che ancora una volta il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ci aveva visto lungo, parlando in tempi non sospetti della presenza di cinghiali che correvano liberamente per fare jogging nel parco del mercatello. Scherzi a parte, come dimostra il video registrato questa mattina, i cinghiali, quelli veri, ci sono davvero. Già avvistato durante il periodo della recente chiusura, un esemplare era però sfuggito alla cattura sabato scorso, quando, alla riapertura dei cancelli, è stato tra gli obiettivi principali della messa in sicurezza del parco. A questo proposito va aggiunto che, cinghiali a parte, l'aria cade a pezzi in più punti. E lo sa bene il comune di Salerno, che sta per ripresentare un progetto di riqualificazione, mentre anche questa mattina alcuni tecnici erano al lavoro nell'anello esterno del parco per porre riparo ad una grossa buca transennata dove, tolta una pianta, è rimasto un pericoloso vuoto. Ritornando al cinghiale, l'avvistamento è frutto di alcuni runner che, non appena i cancelli sono stati riaperti, hanno ripreso la sana abitudine di andare a correre nell'aria. In più punti sul prato sono apparse delle grosse buche scavate dal cinghiale, ma non si esclude che possa essere più di uno gli esemplari che arrivano nel parco, probabilmente quando, nelle ore notturne, non ci sono persone. Il parco è attraversato da un fiumiciattolo, che probabilmente è la via attraverso i quali i cinghiali penetrano all'interno dell'aria. Resta comunque un problema di sicurezza. I cinghiali avvistati un po' ovunque nella città di Salerno, soprattutto nelle ore notturne, possono risultare aggressivi. Già nella sera di oggi, dopo le 16, quando i cancelli verranno chiusi, l'assessorato all'ambiente del comune di Salerno, guidato da Massimiliano Natella, proverà a catturare l'esemplare, con l'ausilio di personale dell'ASL, di un'associazione di cacciatori che già collabora con l'azienda sanitaria. Saranno sistemate delle gabbie con delle trappole per provare a fermare e allontanare per sempre il cinghiale dal parco.